Ciao a tutti, fantastica mattina qui a Zinan, sì vabbè ormai lo dico sempre, oggi ho qui per voi la colazione perfetta. Allora sono andato a comprare degli Yotiao che vi ho già fatto vedere appunto nel video del Zin del Minkwaizhan e per accompagnarli ho preso del Dofunao che sarebbe una zuppa a base di tofu che fra poco vi presenterò. E notare che perfino una zuppa messa direttamente in sacchettini come vi ho fatto vedere anche nello scorso video. E vabbè niente, quindi bando alle ciance, adesso preparerò qui un po' la tavola e poi ci rivediamo qui per farci questa fantastica colazione insieme a voi. Ok, allora in pratica ho preso degli Yotiao che forse li avevate già visti anche nel video del Zin del Minkwaizhan. Allora, che cosa sono per chi non lo sa? Sono delle fritture a base di farina davvero buonissime perché sono fuori coccanti e dentro morbide e allo stesso tempo sono unte ma asciutte, cioè proprio... buone così proprio, ecco. E poi, aspettate che... sono un po' unte. E poi il Dofunao, adesso ve lo presento. Eccolo qua. Allora, in pratica che cos'è? È una zuppetta a base di tofu, come potete vedere. Si chiama Dofunao perché ha la forma tipo di un cervello. E poi ci sono anche queste erbette aromatiche che gli conferiscono un gusto davvero molto particolare. Ed è buonissimo. E il perfetto abbinamento è Yotiao e Dofunao perché insieme sono davvero il binomio perfetto. Vi faccio vedere. Si puccia gli Yotiao nel Dofunao. Buonissimo. Tra l'altro il Dofunao è ancora bello caldo. Buono, buono. Faccio un po' vedere. Questo è il Dofunao, un pezzettino piccolo. Vabbè, vi faccio vedere l'appucciata indiretta. Dai, su. Guardate. Mmm. È un abbinamento davvero buonissimo. Ecco, mi spiace che vi annoio sempre, vi faccio sempre vedere questa stanza. Però tenete duro che fra pochissimo non la prenderete più. Perché come ben sapete io me ne devo andare via da qua. E tra l'altro ho già trovato la casa. Mmm. Poi magari ci sarà qualche nostalgico a cui mancherà questa stanzetta. Me compreso. Mmm. Cioè, guardate. Io ti amo col Tofunao. Cioè, dico. Mmm. Cioè, altro che cappuccino a cornetto. Questa sì che è una colazione come si deve. Mmm. Bella zuppettina di tofu, bella calda. Mmm. Ciao. Vi faccio cambiare un po' l'angolazione. Così forse vedete meglio. Mmm. Mmm. Buonissimo. Ah, giusto. Quanto ho pagato? Allora, il Tofunao, questa zuppetta di tofu, cervello di tofu, costa due yuan qui a Jinan. E invece questi qua, questi yuotiao, praticamente con uno yuan ne compri cinque. Cinque di questi. Quindi in totale questa bella colazione, e soprattutto buona, gli costa tre yuan. Cinque yuotiao e un Dofunao. Mmm. Per me devo essere sincero, gli yuotiao che ho mangiato l'altra volta al Jin del Ming Khaizan erano più buoni di questi. Mmm. Questi sono buoni, però non hanno quella croccantezza. Non so se... Mmm. Buonissimo. E vabbè, quindi niente. Faccio vedere un'ultima panoramica della colazione. Cioè, guardate qua che roba, cioè. Guardate. E vabbè, niente, dai. Io quasi quasi adesso la chiudo qua. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace. Se vi interessa continuare a seguire la mia vita in Cina, mi raccomando, iscrivetevi al canale e seguitemi su Facebook. E noi ci vediamo qui per un prossimo video dalla Cina. Ciao ciao!